Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pentiment, dunque l'ultima volta è successo il casino vero e proprio, ci siamo giocati il nostro Andreas e vediamo come continuerà la situazione qui. Pare che il freddo arriverà prima quest'anno, non credete? Alla mia età ogni anno sembra che il freddo arrivi prima, ma questo gelo è necessario affinché le foglie cadano e con esse le galle. Che so, le galle? Un'escrescenza parassitaria che si forma sulle querce causata dalle uova di vespa deposte sotto la corteccia. Le galle di quercia venivano tradizionalmente raccolte e distillate per produrre l'inchiostro di ferro utilizzato nei manoscritti. Pensa un po'. Ma come? Non volete arrampicarvi sull'albero del santo per coglierle? Ah, persino ai tempi della mia giovinezza un'impresa simile avrebbe richiesto un intervento divino. No, grazie, sarò qui sotto e aspetterò pazientemente che provvede al signore. Non avete dell'inchiostro da parte alla bottega di vostro padre? Per le stampe? Sì. Ah, è la bimba! Ammazza quanto è passato. Quello se lo fa consegnare. Questo è solo per i miei disegni. E poi è bello a volte fare le cose alla vecchia maniera. Questa, credetemi, è una maniera alquanto vecchia. Ehi, Max, suor Gertrude. Dio vi benedica, maestro Zimmerman. Mo' siamo lui? I Zimmerman. Ti ho detto di non chiamarmi così, eh? Non chiamarti Max? Perché tutti mi chiamano Oz, ma io mica mi lamento. Non è neanche un nome, è una valle. A te piace essere chiamato Oz? Sì, allora perché te la diri così tanto? Maestro Zimmerman, chiamereste mai? Maria Maddalena, testimone della morte e resurrezione di nostro signore Max? Immagino di no. Allora sarebbe appropriato che vi rivolgeste alla signorina Drukerin, con il suo nome di battesimo completo. Va bene, chiedo scusa, sorella. Scusa, Max. Magdalene. In ogni caso tuo padre vuole vederti. Cosa? Perché non è alla Rathaus? Sì, vuole che passi a prendere i suoi bozzetti per la fresco e glielo porti. Va bene, immagino di avere raccolto abbastanza galle per ora. Anch'io ho quasi finito, di vi benedica entrambi? Non metterci troppo, Magdalene, il consiglio sta aspettando. Non capisco perché debba farlo io, ma sarà meglio che mi sbrighi? Credo che papà abbia lasciato i bozzetti della Rathaus a casa sul banco del suo laboratorio, accanto alla macchina da stampa. L'Affresco, ottobre 1543. Ah, mo' giochiamo come lei? Pensa un po'. Prendi i bozzetti dell'Affresco. Il santuario di Santa Sazia. I cittadini amano lasciarle delle offerte, specialmente Marta. Ogni anno Agnes viene qui a raccogliere la camomilla con cui prepara i suoi rimedi per l'anno seguente. Pensa un po'. E ci sta ancora Artipo qua? Eh, Lercio c'è ancora, vedi? Eh, Lercio è invecchiato, eh? Vaxlav. Salve Magdalene, vedi Lercio? Eh, sono passati tanti anni, sì. Che figo. Pascoli. Questa vecchia stessa di San Maurizio ha visto giorni migliore. Però al mulino? Vediamo un attimo al mulino com'è la situazione. Accarezza suube. Sì, 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 sì. Questo è il figlio del ragazzo? Andreas l'hanno chiamato? Ciao! Buongiorno maestro Müller. Puoi chiamarmi Magdalene, Andreas? Maglen. Anche Magdalene. Anche Magda va bene. Magda. Così si fa. Cosa fai di bello oggi? Disegno? Qualcosa di interessante? No, è un segreto. D'accordo, allora ti lascio continuare. Casa dei Müller. Elsia. È vecchia da pure Elsia. Ciao Magdalene. E quindi lui ha avuto questi bimbi? Anche Ulrike? Magdalene. Ciao Ulrike. Dato che Ulrike è morto, hanno chiamato questa Ulrike. Ciao. Che fai di bello? Guardo. Molto bene ti lascio al tuo lavoro. Lavoro. Proprio come la mamma. Adesso andrò a lavorare. Anna. Dio ti benedica Magdalene. Anvedi. Anvedi, direi. Casa dei Drugger. Vediamo un po' qua. La chiesa. Sarà crepata quella stacqua dentro? Maria, madre di Dio. Da qualche ricordo il suo dipinto è sempre stato qui. Il prete manco c'è più. Beh, maggior parte di quelli saranno pure crepati. O erano già vecchi. Casa dei Drugger. Possiamo dormire perché questa è casa loro. Ah, vedi? I bozzetti dell'affresco della Rathaus. Penso che siano questi che vuole mio padre. Penso di avere preso tutti i bozzetti. E questo cos'è? Farà parte dei bozzetti? Ancora? Ancora vivo? Devi fermarti. Questa non è la calligarifia di papà. Infatti riesco a leggerla abbastanza bene. Che strano colore. Non abbiamo un inchiostro simile nel laboratorio. Qualcuno l'ha lasciato qui, eh. Grazie a Dio, uno stampatore. Come scrive? Va bene, il dubbio porterò con me anche questo. Non si sa mai. Bene, sarà meglio che li porti alla Rathaus. E mo' ci andiamo, però voglio un attimo vedere bene cos'è cambiato nel mentre. Anche per capire chi è rimasto pure in vita dopo tutto il casino. Villaggio. Casa dei Kreuzzer. Till il giovane. Salve Magdalene. Eva. Ciao Magda. Cristina. Ciao Magda. Ciao Cristina. Che fai di bello oggi? Aiuto la mamma? Ozza ha ragione, sei davvero carina. Ah, lo ha detto lui? Ho sentito, lui è Kraft. Quello dei sottirete. Oh, capisco. Hihihi. Non dirò a nessuno un segreto? Ah, manterrò il segreto? Aha. Sei divertente Magda. Quindi Magda fa colpo? Va bene. Artemis. Chi cacchio è questo? Ciao Magdalene. Ursula. Salve Magdalene Fabian. Voglio andare un attimo alla fattoria dei Bauer a vedere che è rimasto. Vabbè, Peter è vecchio ormai, è morto. Hans. Salve Magdalene. Ciao Hans. Avevi bisogno di qualcosa? Kraft non ti avrà mica importunata di nuovo? O si è ficcato in qualche altro guaio? No, si è comportato bene, più o meno. Bene, quel ragazzo ha una spina nel fianco. È pigro, arrogante, non si preoccupa della famiglia. Un giorno disonorerà il nome dei Bauer. Ah, questi sono i Bauer, scusate. Quello lì che poi Martin non era più Martin. Di solito evito di ficcare il naso negli affari altrui, ma Martin? Comunque non volevo lamentarmi. A presto Magdalene, a presto. Simon. Ehi Magdalene. Eddie. Eh, Eddie è becchiata. Ehi Magdalene. No, la fattoria che dicevo io era questa altra. I Gertner. Questo è ancora vivo, il vecchio Peter, l'amatton. Complimenti. Ah, Veronica. Quindi Veronica c'è. Clara, che è più vecchia ancora. E basta. Complimenti a Peter, però, eh. Cioè, onestamente. Vabbè, andiamo alla Rathouse. Ah, c'è pure lui. Andris è ancora vivo. Buongiorno Magdalene. Marta. Marta era sempre figlia di quegli altri Giumsa, vero? C'è pure questo. E, vabbè, dobbiamo andare alla Rathouse. Per andare alla Rathouse, da qui... Giro di qua, ok. Al forno degli Alban. Resi. Ah, quelli che mi sbavano. Ci si rivede, Max? Ma ci sei o ci fai? Ti ho appena detto di non chiamarmi così, eh. E che cosa ci fate tutti qua fuori? Non avete di meglio da fare? Sono forse affari tuoi? Io no, ho già finito il mio lavoro, Max. Apollo. Che ti importa? Non che tu abbia chissà quale lavoro importante da fare. Ah, adesso... Eh, quindi, boh, proprio con lei giochiamo, eh. Allora, possiamo scegliere le origini che influenzeranno le decisioni del nostro personaggio nel corso delle vicende narrate. Stagnino. Magdalene utilizza la macchina da stampa e i caratteri tipografici e si occupa della loro manutenzione. Inoltre, collabora occasionalmente con Baltas. Oppure, economia domestica. Magdalene è in grado di occuparsi di qualsiasi aspetto pratico relativo alla casa o agli animali. Contabile. Magdalene è abile nel far quadrare i conti e in generale nel creare le sue continuità di informazioni. No, vabbè, facciamo che lavora col padre. Io mando avanti la tipografia per conto di mio padre e collaboro alle invenzioni di Baltas. Ah, Baltas è quello delle invenzioni, ok. Mi sembra un pochino più importante che starsene a bighellonare per il villaggio in pieno giorno. Le invenzioni di Baltas sono stupide. Non mi sembra qualcosa di cui dovrebbe occuparsi una ragazza se me lo chiedi. Eh, te pare. Nessuno te l'ha chiesto, infatti. Calmati, Mags, o ti farei una cattiva reputazione. Troppo tardi, ha già una cattiva reputazione. Andate a fanculo. Dialettica Magdalene sa come punzecchiare, contraddire e far abbassare la crescita dei suoi interlocutori. Questa mi piace. Civetta Magdalene piace civettare, divertirsi e stutticare le persone. Nah. Affarista Magdalene ne abbina le contrattazioni che si tratti di denaro o di altre questioni commerciali. Ficcanaso no. Magdalene incrina a muoversi in modo furtivo. No, no, no. Dialettica Colpisce più la penna che la spada. Chi è? Io almeno ce l'ho una reputazione. Se voi moriste oggi, i vostri pitafferi citerebbero. Tre coglioni che passavano la loro mattina a molestare la ragazza al villaggio. Grande Magdalene. Mi stai simpatica. Sempre ammesso che vi facciano una tomba. Grande. Più probabilmente getterebbero i vostri inutili cadaveri su un mucchio di concime sperando in una resa migliore. Mitica. Va bene, abbiamo capito, basta così. Hai preso quelle cose che voleva tuo padre? Sì, è per questo che stavo andando alla Rathaus. Spero di poterle consegnare alla svelta e dedicarmi alla mia lettura quotidiana. Lettura? Quale libro è così importante da avere fretta di tornare ad aprirlo? Ma che è? Belle e Gaston. Poliglotta, figli. No, Magdalene the best. Magdalene non sa parlare lingue straniere a parte l'italiano, ma sa leggerle un po' tutte. Magdalene ha familiarità con i libri più popolari diffusi dell'epoca, tra cui raccolte di curiosità varie, almanacchi, testi di saggezza popolare, storie escatologiche. Magdalene ha letto un vasto assortimento di libri contemporanei su Riforma e la Controriforma. No, famola Poliglotta. Grande Magdalene. Don Florisello di Nikea. Don cosa? Florisello, un romanzo cavalleresco scritto in castigliano, una lingua davvero affascinante. E chi la parla? La gente della Castiglia? Mai sentita nominare? Vabbè, ma voi siete ignoranti. Già, sembra un nome inventato. A te piace leggere... Perché questo? Tutti quei libri su alberi, uccelli e roba simile, giusto? Sì, alberi, uccelli e roba simile, giusto? Le persone hanno finalmente iniziato a descrivere ciò che vedono in natura invece di copiare quello che qualche intellettuale greco immaginava secoli fa. Hai qualche libro sulle rane? Cosa? Non importa. Aspetta, Oz, non dovresti essere anche tu a Lara Taos? Sei nel consiglio? Sì, ma è inutile andarci finché non arrivano i bozzetti di tuo padre. Muoviamoci? Va bene. Grande Magdalene, mi piace. Non capisco perché stiamo ancora discutendo a questo proposito. Ah, c'è pure ancora lui. Ah, vedi lui si è giocato un occhio. Vabbè, un po' da gente l'ha rimasta. Questo affresco dovrebbe rappresentare la verità, quello che noi sappiamo essere la verità. Temo che non sia così semplice, Klaus. Avete paura di far arrabbiare il nostro signore padre Thomas? Penso che padre Thomas intenda dire che non è facile accordarsi su quale sia la verità. Non so, sono stanco di discutere. Voglio solo che il murale sia bello e raffiguri quello che è successo. Magdalene, grazie per averle portate qui. Forse le immagini riusciranno dove le parole hanno fallito. Non ne posso più di discutere con loro. Ci vediamo a casa per cena. Va bene così, Magdalene. Non c'è bisogno di vedere i disegni. Non è che non capiamo cosa vostro padre sta cercando di fare. Non mi ero reso conto che lo avessimo agitato così tanto. Sembra che le cose siano peggiorate dopo che sono andato via. Ah, questo è Paul, il figlio di Woldermulino. Bene, stiamo discutendo da quasi due ore. E non è servito a niente. Klaus non ha cambiato idea. Che senso ha parlare se non riusciamo a fare progressi? Magdalene, potreste parlare con vostro padre e aiutarlo a vedere le cose dal nostro punto di vista? Padre Thomas, non so nemmeno di cosa stiate discutendo. Quindi in definitiva sono corsa a prendere dei bozzetti che non volete vedere e ora vorreste che io faccia qualcos'altro per voi. Vabbè, facciamo questo. Qual è il vostro punto di vista? Klaus ha opinioni forti, molto forti, su come la storia di Tessing e dell'abbazia di Kiersau dovrebbero essere raffigurate. Chissà com'è mo' l'abbazia. E quei ritratti potrebbero turbare alcuni nostri vicini? La vera preoccupazione non è forse che il signore si arrabbi? In realtà non sono forse tutti preoccupati che un giorno venga qui e veda la rivolta commemorata sul muro? Continuate a dire che siamo tutti contrari? Io non penso di essere contrario, non del tutto. Beh, tu cosa pensi, Yorg? So di non essere l'uomo più intelligente in questa stanza, ma so cos'è successo a mio padre. So cosa ha fatto. Non mi sembra giusto ignorare quello che gli è successo? Quello che è successo a Otto? Sentite, voi conoscivate tutti mio padre? Io non ne ho mai avuto la possibilità. È il figlio di Ulrich? Boh, mi ricordo. Non voglio far arrabbiare la gente di questa città, non voglio far arrabbiare il nostro signore. Nessuno di noi lo vuole, ma forse c'è un modo per raccontare questa storia in modo veritiero senza infastidire nessuno. Quindi è tutto molto complicato. Capite, Magdalene? Cercate di convincerlo a raffigurare la nostra storia in un modo un po' meno provocatorio. Mio padre è stato profondamente toccato dalla rivolta, non sarà facile convincerlo di nulla. Non mi sembra così complicato come pensate voi? Quindi volete che io lo convinca a fare quello che dite voi? Funzionerà sicuramente. E pensare che il consiglio dovrebbe rappresentare il meglio di Tessing? Io direi questa. Mio padre è stato profondamente toccato alla rivolta. La rivolta è stata un evento importante per tutti a Tessing, so quanto sia stato difficile per lui. Dobbiamo trovare un accordo o annullare completamente il progetto dell'affresco? Vuole dipingere questo affresco da anni, non potete dirgli di no all'improvviso? Allora aiutaci, Magdalene, tuo padre ti darà ascolto? Va bene, non prometto nulla, però. È già abbastanza difficile da convincere. D'accordo, ma solo perché così lui potrà dipingere, non certo per i vostri battibecchi infantili. Vabbè, mo' ne esageriamo. Famo questo, va? Famo una un po' più tranquillina, non si sa mai. Ora torno a casa, ho già sprecato troppo tempo della mia giornata con questo pasticcio. Ah, vedi, lei ha l'orologio così, eh? Che figo. Magdalene, grazie per aver portato i disegni alla Rata House, mi dispiace che sia stata una perdita di tempo. Quegli uomini non sanno cosa vogliono, quando spiego loro cosa sto cercando di fare si spaventano. Poi parlano, parlano e parlano. Parlano tutto il giorno e non ci avviciniamo mai a una decisione. Sono stufo, stufo di tutta la faccenda. Padre, sono preoccupata per te. Non puoi iniziare a lavorarci e basta, se non gli piacerà se ne svaranno una ragione. Probabilmente smetterebbero di discutere se proponesti qualcosa di più prevedibile. No, padre, sono preoccupata per te. Lo so, apprezzo il fatto che ti preoccupi per me. Credo sia passato parecchio tempo, dall'ultima volta mi sono arrabbiato tanto per qualcosa. Me la farò passare, ho solo bisogno di tempo. Perché ti dà così tanto fastidio? Sentiamo tutte queste storie su come era questo posto, come è nato. E sembra che la storia sia qualcosa che è successo prima ad altre persone. Ma 18 anni fa l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle, io e te, tutti quanti a Tussing. Tutti vogliono dimenticare, fingere che non sia accaduto nulla. Ma tu no. No, io no. Tanti anni fa non ho fatto nulla. Ero preoccupato per te, preoccupato per Benjamin, Rachel ed Esther. Avvo tanta paura di perderti, non sarei stato in grado di sopportarlo. Alla fine sono morte comunque così tante persone. Peter, quindi Peter quello è morto. Questo è morto. Quindi l'altro vecchio è quello vecchio vecchio, l'amadò. Io pensavo che era lui. Peter e Ulrich e Andreas e tutti gli altri. E noi siamo sopravvissuti. Padre, tutti dicono che non avrebbe fatto alcuna differenza. Se tu e gli altri avreste combattuto sareste morti. Sarei morto anch'io? Forse avrei potuto impedirgli di andare al mulino? O forse avremmo potuto impedire ai contadini di dargli fuoco? Ma non lo sapremo mai? Non puoi cambiare il passato, papà. È di questo che tratta la fresca. No, non puoi cambiare il passato, papà. Lo so, il minimo che posso fare è assicurarmi che non venga dimenticato. Qui è accaduto qualcosa e noi ne abbiamo fatto parte. Devo aiutare la gente a ricordare. Se non lo faccio io, chi lo farà? Hai ragione, papà, non innervosirti. Hai ragione, papà. Vorrei che gli uomini in quell'ara house mi vedessero come mi vedi tu. Li convincerai in un modo o nell'altro e ne verrai a capo. In un modo o nell'altro ne verrai a capo. Lo spero. Tutte queste discussioni mi hanno sfinito. Vado a letto presto. Va bene, io rimarrò alzata un altro posto a scrivere una lettera a Esther. Che cacchio è Esther? Questa. Ok. Bene, saluta mai là, per favore. E anche i suoi genitori, lo so, padre. Buonanotte, Magdalene, ti voglio bene. Lui è una bella persona, lui, sì. Ti voglio bene anch'io. Tutto questo avanti e indietro ha stancato anche me. Mi farà bene sedermi alla scrivania e scrivere un po'. Torna a casa. Scrivi a Esther. Bene, da dove comincio? Ah, dovrei scrivere a Esther. Carissima Esther. Spero che tu stia bene, l'autunno che ci ha infine raggiunti qui a Tessing. Spero che tu e la tua famiglia stiate bene. Papà manda i suoi saluti ai tuoi genitori come sempre, questo. Ho passato gli ultimi giorni a raccogliere galle di quercia con Suor Gertrude. Immagino che tu non possa farlo a Praga. Suor Gertrude mi ha insegnato a macinarle per ricavarne un inchiostro incredibilmente scorrevole. Richiede molto impegno, ma non troverai inchiostro migliore in Baviera. Te ne spedirò una bottiglia insieme a questa lettera. Oh, non te l'ho detto, papà ha iniziato un nuovo progetto. Sta dipingendo un affresco della storia di Tessing, nella nostra onora a Taos per commemorare la rivolta. Questa faccenda mi ha spinta a riflettere sulla storia della mia famiglia, passata, presente e futura. Non credo di voler rimanere a Tessing per sempre. È un posto pittoresco in cui crescere, ma ormai ho vent'anni. La tipografia appartiene alla nostra famiglia da anni, non vedo l'ora di prenderla in gestione. Vabbè, abbiamo fatto che lei è tipografa, quindi ci sta. Ovviamente mio padre continuerà a portare avanti il negozio fino a quando non riuscirà più a tirare le leve, ma prima o poi dovrò occuparmene io. E se ereditassi i negozi non dovrei nemmeno sposarmi. Naturalmente la tipografia sarà più redditizia rispetto a qualsiasi attività possa intraprendere mio marito. Secondo me lei non si vuole sposare. E se ereditassi i negozi non dovrei nemmeno sposarmi. Non puoi capire quanto Ozz sia fastidioso. Penso che tua madre crede che mi stia corteggiando. Te lo immagini? Eh sì, prima che spezzi la punta della penna prometto che verrò a trovarti a Praga. Cercherò di trovare il tempo per farti visita prima che arrivi l'inverno. La vita è stata frenetica qui. Ultimamente mio padre è impegnato con il murale della Rata House, perciò ho assuntuito la gestione del laboratorio. Sono sicura che sarà uno spettacolo una volta terminato? Rispondimi presto? Con tutto l'affetto? Magda? Vai a letto e andiamo a letto. Mi sta facendo tardi, sarà meglio riposare un po'? Massiva dormeva. Ma sì, va dormeva. Letto enorme. Padre? Padre? Magdalene? Padre? Aspetta, sto arrivando. No! E che cazzo? No! Ma una bella persona. Ma perché? Padre! Magdalene? Cos'è successo? Stai bene? Stai sanguinando? Eh, non sta bene. Qualcuno? Si è introdotto in casa? Mi ha colpito alla testa? Vado a chiamare Dr. Stoltz. Cerca di non muoverti, papà. Magdalene è pericoloso. Chiunque mi abbia aggredito. Questa ferita è troppo profonda. Non posso occuparmene da sola. Dobbiamo chiedere aiuto al Dr. Stoltz. Io non ho la forza per trascinarti attraverso la città, papà. Non ci metterò molto, lo giuro. Ti prego, cerca di... No, questo. La prima. Magdalene, stai attenta. Va bene, tornerò subito. Te lo prometto. Ma povero! Ma no! Vabbè. Ok, non è morto. Hai idea del perché qualcuno avrebbe voluto aggredirti, Klaus? È per Murales. No, forse a qualcuno non è piaciuto uno dei libri che io ho venduto. È sicuro di non aver visto un'ombra e avere battuto la testa sulla macchina da stampa? Andiamo, Yorg. Hai visto il laboratorio? Qualcuno stava cercando qualcosa? Ah, questo è l'inventore che non è invecchiato di un giorno. Un ladro a Tessing? È assurdo. Eh, intanto... Non è che ci sono stati vari omicidi pure a Tessing. Beh, non è stata un'aggressione. Cos'è stata? Basta così. È stato un colpo inferto intenzionalmente alla testa. A meno che qualcuno di voi non desideri mettere in discussione la mia diagnosi? No, certo che no, no. Come pensavo? Sinceramente, Klaus, sono sorpreso che il colpo non ti abbia ucciso. È la testa dura? È una ferita grave. Magdalene, dovrei prenderti cura di tuo padre. Va bene, farò quello che devo fare. Ovviamente. Che stiamo a scherzare. Come ovvio, la fresco dovrà essere subito annullato. Klaus, tu non puoi assolutamente alzarti dal letto. È per quello che l'hanno fatto. No, no, bisogna farlo. È troppo importante. Datemi solo un po' di tempo per riposare. Troverò un modo per farcela. Non penso sia necessario annullare l'intero progetto. Non possiamo semplicemente aspettare. Giorga alla fine dice sempre cose sensate. Klaus, la tua salute viene prima di tutto. E comunque non siamo nemmeno riusciti a trovare un accordo su come dovrebbe essere fatto l'affresco. Ah, infatti c'era il fogliettino dei fermarti. Perché non volevano questo affresco, no? Eh sì. Infatti, forse sarebbe meglio abbandonare completamente l'idea? Con rispetto, padre Thomas, voi non fate parte di questo consiglio? Certo, certo, sto solo offrendo la mia opinione. Posso dipingere io l'affresco? Cosa? Max, smettila di scherzare. Beh, so che vuoi aiutare tuo padre, ma non sei troppo giovane per un incarico così impegnativo? Dipingo da prima che imparassi a camminare, non mi ritieni abbastanza brava? Sono grande abbastanza da gestire la tipografia da sola e mio padre mi affida i libri da illustrare, non è sufficiente? Sono più grande di Oz e lui fa parte del consiglio cittadino e per di più non fa nulla. Questa, la prima, tiè. Cioè, non è che tu non sia brava a dipingere, Max, è solo che... Per dipingere un affresco così grande occorre non poca abilità e competenza. E quindi? È per questo che avevamo affidato l'incarico a tuo padre? Per la sua esperienza in campo artistico? Sono d'accordo con Paul, Klaus ha bisogno di cure qui, a casa. Sei più adatta per questo, Magdalene, non per un affresco. Eh, sei donna. Manca solo il sei donna. Eccolo. Che cosa vorresti dire? Beh, sei sicura di essere all'altezza del compito dal punto di vista fisico, intendo? Ecco, ho detto che Jorg diceva le cose intelligenti, invece è un coglione pure lui. È piuttosto impegnativo, dovreste stare su un'impalcatura e potreste cadere. Ma cosa ne sapete tutti voi? Non mi state ascoltando? Faccio già questo lavoro da anni. Va bene, ho capito l'andazza, avrei dovuto aspettarmelo. Non mi state ascoltando? Faccio già questo lavoro da anni. So bene cosa bisogna fare, papà sa cosa bisogna fare. E voi? Posso farlo io, papà? Se non vi fidate di Magdalene per l'affresco potete andarvene tutti al diavolo. Grande, grande. Klaus! Se non avete fiducia in lei significa che non avete fiducia in me, non lavorerò mai più per questo consiglio. Va bene, io dico di lasciarla fare. Non sembra che abbiamo molta scelta. Molto bene. Va bene Magdalene, puoi farlo. Ma devi comunque parlare con noi di come intendi procedere, va bene? Bene, ma terrò conto delle idee di papà, taccateva al cacchio. Beh, troveremo una soluzione. Grazie Magdalene. Tu riposa di Klaus. Farò del mio meglio, Jorg. Solo un momento Magdalene. Sì, di cosa si tratta? Suo padre adesso è lucido, ma la sua ferita è grave. Il suo stato attuale non deve trarsi in inganno. Lo so che la ferita è grave, Werner, ho vissuto quel sangue. Cosa intendi dire? Vediamo che dice, è un dottore, dai. Ha un trauma cerebrale, Magdalene. Potrebbero restargli poche settimane, forse qualche mese. Ma non sopravvivrà. No, deve esserci qualcosa che puoi fare. Non possiamo portarlo da un chirurgo? Beh, il chirurgo, sì. No, non può essere spostato in queste condizioni. Per la precisione non dovrebbe muoversi affatto. E anche se potesse, dubito che persino i più illustri chirurghi italiani saprebbero come trattare un trauma simile. Quindi morirà e basta. E non c'è nulla che io possa fare per evitarlo. Puoi dargli il tuo conforto e apprezzare il tempo che vi resta da trascorrere insieme. Ma non gli resta molto? Ma no! No! E che palle! Eh, ma povero! Mi sa che ha fatto bene quella andare via a Praga, ha lasciato Dussing. Voglio che papà riesca a vedere l'affresco completato. Ma non so quanto tempo gli resta. Werner gli ha dato pochi mesi, o... Che Dio lo protegga. Riprenderò da dove papà si è interrotto. Voleva dipingere la storia di Tussing, dai tempi antichi alla rivolta. Inizierò con la parte più antica della storia di Tussing, le tribù pagane e i romani. Poi passerò alla fondazione dell'abbazia e i santi di Tussing. Dopodiché devo trovare un modo per rappresentare la nostra storia recente, raffigurare la rivolta importante per papà. La gente di Tussing potrebbe conoscere parte della storia della città, ma non tutta. Papà ha detto che la biblioteca di Chiersau possiedeva quei documenti. Stava per scrivere all'ultima priora per sapere se avesse qualche informazione. Dovrei scriverla più presto, mentre penso al da farsi. Eh, allora scriviamo subito, ci stiamo. Bene, da dove comincio? Papà mi ha detto che l'ultima priora di Chiersau sapeva qualcosa sull'antica storia di Tussing. Ha detto che è diventata badessa di un convento a Bologna. Madre illuminata? Ah, è illuminata, eh? Sì, a Santa Margherita. Piccola città della Repubblica di Genova, ubicata sulla costa del Mar Ligure. Dovrei scriverle. Madre illuminata, badessa di Santa Margherita, già a priori dell'abbazia di Chiersau. Madre illuminata, badessa di Santa Margherita, già bibliotecaria dell'abbazia di Chiersau. Madre illuminata, badessa di Santa Margherita. No, priora dell'abbazia di Chiersau. Mi chiamo Magdalene Druckerin, non credo che abbiamo mai avuto occasione di conoscerci, dato che ero molto piccola quando avete lasciato Chiersau. Sono la figlia di Klaus Drucker, Magdalene. Lavoriamo come stampatore a Tussing. Forse questo. Conoscevate mio padre, va? Ha comprato molti libri dalla biblioteca prima che quel terribile incendio la distruggesse. Vi scrivo perché io e mio padre stiamo realizzando un affresco nell'arataus di Tussing. Racconterà la storia della nostra comunità e anche di Chiersau. Abbiamo solo leggende e folclore a cui attingere, poiché ovviamente tutti i libri di Chiersau sono andati distrutti nell'incendio. Speravo che voi poteste raccontarci qualcosa sulla storia antica della città quando c'erano i Romani. Se sapete qualcosa sulla storia antica dell'abbazia stessa, saremmo lieti di venirne a conoscenza. Apprezzeremo qualsiasi aiuto possiate fornirci e speriamo che stiate bene. Mio padre vi ha sempre lodata, soprattutto per come vi siete presa cura delle sorelle dopo l'incendio. Mio padre vi ha sempre lodata, soprattutto per come vi prendevate cura della biblioteca e dei suoi libri. Mio padre ha sempre lodato molto la vostra devozione e il vostro intelletto. Se posso farvi una domanda personale, è stato difficile tornare in Italia dopo aver vissuto qui per così tanti anni? No. Mio padre ha sempre lodato molto la vostra devozione e il vostro intelletto. Fammola un po' più generica. Che Dio vi benedica. Magdalene. Se voglio finire la fresco prima di Natale, dovrò iniziare i preparativi domani. Dovrei andare a letto e riposare il più possibile. Sì, devo andare per forza a dormire. Qua non trovo proprio nessun indizio. Diamo un po' al padre. Sì. Magdalene. Ehi papà, come ti senti? Vuoi che ti porti qualcosa? No, no, sto bene. Continua pure. Va bene, passerò più tardi a vedere come stai. Ma porro Klaus. Dormi. Si sta facendo tardi, sarà meglio riposare un po'. Eh vabbè, va a dormire, non è che mi fa fare altro, non mi fa uscire. Odi, mazza, quanto ha dormito. Ho spostato un po' di giorni. 6 novembre. Postino della Reich's Post. Ah, signorina Drucherin, ho qui alcune lettere indirizzate a voi. Buona giornata. Grazie, signore. Madre illuminata mi ha scritto. Spero che la sua risposta mi aiuti a dipingere la fresco. Ah, è quella che è un birillo. Signorina Drucherin, grazie per la vostra lettera. Spero che voi e vostro padre stiate in buona salute. Vi ricordo entrambi poiché negli ultimi anni di esistenza della nostra biblioteca vostro padre ne percorreva i corridoi tenendovi in braccio. Ricordo anche vostra madre e vostro fratello, prematuramente defunti, che Dio custodisca le loro anime. E' vero che avevamo alcuni libri che illustravano il passato di Tessing, ma è probabile che contenessero miti simili a quelli a cui credono i vostri vicini. Detto ciò, ricordo che uno dei contadini, Tillman Krautzer, lesse la storia della città. Questo. So che è morto durante la rivolta, ma forse la sua famiglia sa qualcosa di ciò che ha scoperto. Devo anche ammettere che non è vero che tutti i libri di Kershaw siano andati distrutti nell'incendio. Andrea Smaller riuscì a salvarne alcuni dalle fiamme, che Dio la abbia in gloria. All'indomani di quella terribile notte, catalogare e conservare i libri sopravvissuti non era il primo pensiero di nessuno. Tuttavia, questo argomento mi ha riportato alla memoria un ricordo. Diversi anni prima dell'incendio ci fu un omicidio a Kershaw, l'omicidio del barone Rothvogel. Il barone aveva accennato di aver trovato una copia dell'Istoria Tassie, una cronaca completa della vostra città natale. Me ne ero dimenticata fino ad ora perché l'omicidio aveva dominato tutti i nostri pensieri nei giorni e nelle settimane che seguirono. Questo mi preoccupa perché ricordo che anche padre Mattias, pace all'anima sua, stava leggendo una copia dell'Istoria Tassie poco prima di morire. Non abbiamo mai ritrovato nessuno dei due libri. Potrebbero essere stati nascosti da qualche parte nella biblioteca ed essere bruciati insieme a tutto il resto. O forse il priore Ferenc l'ha sottratto al barone dopo l'omicidio. Ferenc era interessato a tutti i tipi di libri, ovviamente, ma mi sembra una cosa strana da fare in quel momento. D'altra parte, però, solo Dio sa cosa quell'uomo ha fatto e perché. Miklaus Haberle, il servo del barone, credeva che potesse essere stato rubato dal ladro della città. Martin Bauer. Questo, quindi Miklaus. Sì, Martin forse è ancora vivo. No, se Martin fosse ancora vivo gli chiederei se sa dove si trova il libro, sperando che non l'abbia scambiato per un boccale di birra mentre fuggiva da Tessing. Se non fosse più in questo mondo, forse i suoi parenti potrebbero sapere dove è finito il libro. Quanto alla storia dell'abbazia, temo che anche quella sia andata perduta nell'incendio. Tuttavia, da sacristano, il priore Mathieu imparò molto sull'argomento. Non sono rimasta in contatto con lui, ma so che ora è all'arcidiagono di Sion. Non è più un benedettino, ora uso il suo cognome. Se gli scrivete presto, la vostra lettera potrebbe arrivare prima che la neve copra il vallese. Vi prego di portare i miei migliori auguri a vostro padre. Era un buon amico dell'abbazia nei suoi anni migliori. Nonostante quei fatti violenti, non servono ancora nei confronti della gente di Tessing. Prego che abbiate visto giorni migliori dopo quella notte e che Dio perdoni i molti errori che abbiamo commesso. Che Dio benedica anche noi. Anche Esther mi ha scritto Mia cara Magda I miei genitori hanno accolto con gioia la lettera di tuo padre per favore digli che desiderano ricevere presto sue notizie. Parlando di stampa, il tuo inchiostro è stato decisamente apprezzato. L'ho utilizzato per realizzare diverse stampe. Stanno proprio bene appese alle pareti. Dopo averlo visto, Elisha ha tentato di creare una sua versione con gli scarti trovati in giro per casa. Mia madre si è infuriata quando ha speso diversi pfenning cercando di trovare dell'apis al mercato. Monete d'argento, comuni di basso valore, l'equivalente germanico del denario romano. I pfenning vengono coniate in tutto il Sacro Romano Impero e variano notevolmente per stile, contenuto d'argento e valore. Come punizione gli ha fatto tirare a lucido tutti i pavimenti, ci ha impiegato tre giorni. Sono contenta che tu stia tenendo occupata, anche se questo ti impedisce di farci visita. Mio padre dice che c'è sempre posto per te nel caso volessi passare di qui. E se decidessi di assumere la gestione del negozio a Tessing dovrei viaggiare regolarmente a Praga per fare rifornimento. Chissà, potresti incontrare qualcuno qui? Anch'io ho ad occhiato un buon pretendente. C'è un ragazzo alla sinagoga, Simund, che ha attirato la mia attenzione. Suo padre è un medico e anche tutti i suoi fratelli sono andati all'università. Mi piacerebbe molto sposarlo. Ad ogni modo spero che questo Oz e sua madre non ti creino troppi problemi. Però dovresti dare una possibilità agli uomini, Magdalene, sanno essere molto amabili. O perlomeno quelli qui in città lo sono. Per favore, tienici aggiornati sull'affresco di tuo padre. Ci piacerebbe venire ad ammirarlo quando sarà completato. Ti auguro il meglio, Esther. Dovrò rispondere a Esther stasera. Ora è meglio che torni a casa per controllare come sta papà. Sì, però io vorrei andare anche all'abbazia. Ehi papà, come ti senti? Ah, Magdalene. Stare seduto con la schiena dritta è ancora un'impresa, temo. I capogiri mi fanno rivoltare lo stomaco, quindi per ora preferirei non mangiare. Sei sicuro? Posso portarti qualcosa di leggero, come del latte o del brodo? No, no, ancora non riesco a digerire nulla. Ma dimmi, dove stai andando? Oggi devo iniziare a lavorare alla prima parte dell'affresco, quella sulla storia antica. Madre Illuminata non sapeva molto della storia antica di Tessing, ma mi ha dato qualche spunto per cominciare. Chiederò a Till se suo nonno gli ha raccontato qualche storia. Illuminata ha detto che era solito leggere libri sui romani. Madre Illuminata? Magdalene? Sì, giusto, Madre Illuminata. Eh, non volevo, un attimo, lo so che è il birillo. Il giovane Krauser menziona spesso quei racconti, è vero, ogni tanto viene a prendere in prestito dei libri. Dopo aver scoperto qualche reperto interessante nei campi, di solito potresti chiederglieli di parlartene. C'è anche il vecchio Peter, che mugugna sempre che nessuno si interessa più ai tempi andati. Sono certo che avrà diverse storie da raccontare sull'antica Tessing, potresti andarla a trovare e farci quattro chiacchiere. Non ci avevo pensato, grazie papà. Figurati, Magda, sono lieto di rendermi utile, anche se sono bloccato qui a letto. Non dire sciocchezze, sono felice che tu sia sveglio. Potresti parlare anche con il lercio, e ci ho provato. Il vecchio Carbonaio dovrebbe conoscere i boschi che circondano la città meglio di chiunque altro. Ed è un gran chiacchierone. Le volte che ho parlato con lui si è sempre mostrato gentile, sono certa che saprà dirmi qualcosa sulle rovine. In ogni caso potresti ricavarne qualcosa di utile. Andrò a parlarci. Che mi dici delle rovine o delle miniere? Non posso basarmi solo sui libri e racconti. Voglio esplorare tutto ciò che è stato lasciato dai romani e da chi c'era prima di loro. La miniera di sale e le rovine romane sono le parti più antiche di Tessing, perciò è d'obbligo scoprire cosa vi è rimasto. Ah, hai preso da tua madre. Era sempre scrupolosa nelle sue ricerche. Hai sempre detto che è ciò che fanno i bravi artisti, papà. Fai attenzione, d'accordo. So che i gemelli sono soliti vagabondare vicino alla miniera di sale, ma non voglio che tu ti faccia male. Non capisco perché gli organo li metta in riga. Creano sempre problemi quei due. Non preoccuparti per me, papà. Starò attenta. Non hanno abbastanza cervello per tenersi fuori dai guai, lo sa. Io sì. È quello che succede quando chiami i tuoi figli come delle divinità pagani invece che dei santi. Almeno a te mi stessa a leggere. Credo che Apollo non sappia neanche scrivere il suo nome. Questa. Il ragazzo ha difficoltà con le lettere, Magdalene. Non deriderlo per questo. Non tutti sono figli di uno stampatore. Non dimenticarti di sbrigare anche le altre faccende mentre giri per la città. Va bene, abbiamo comunque una casa da mandare avanti. Non preoccuparti, penserò io a tutto. Brava la mia ragazza. Ora è meglio che vada. Se voglio fare tutte queste cose oggi, ci vediamo più tardi, papà. Buona fortuna, Magdalene. Allora, c'ho un po' di cose da fare, obiettivamente. Allora, andrei prima dai Bauer e poi andrei alla Abbazia, casa dei Drucker. Dove stanno i Bauer? Non mi ricordo. Fattoria dei Bauer. Non me lo segna come obiettivo. Però, onestamente, penso che designa. Che dice il Regno dei Odds qua? Ehi, Max. L'hai avuta vinta con l'affresco, eh? Non mi aspettavo che saresti riuscita a convincere il consiglio come hai fatto. So essere piuttosto testarda quando mi ci metto Odds. Hai una così bassa opinione di me? Io non mi aspettavo che la città scegliesse un deficiente come te per il consiglio. Vabbè, esagerazione. So essere piuttosto testarda quando mi ci metto Odds. Ho visto, sono colpito. Il resto del consiglio rimuginava sulla questione da non so quanto tempo. Nemmeno io avevo voci in capitolo. Poi sei arrivata e li ha zittiti in pochi minuti. Ci vorrebbero più donne come te in città? Questa città è piena di donne risolute. Che aspettate a farci entrare nel consiglio, tiè? Eh, beh, devi prendertela con l'attuale signora. Inoltre, credo che nessuna di loro abbia una testatura come la tua, in senso buono. Sei l'eccezione che conferma la regola, Magdalene, come sempre. Devi esserti dimenticato di Agnes. Quella non le manda a dire a nessuno. Non volevo dire questo, lei non è... Ah, lascia perdere, non importa. Ad ogni modo, vederti tenere testa al consiglio in quel modo è stato fantastico. Lo so che faccio parte anche io del consiglio, ma a volte ho l'impressione di non avere alcuna influenza. Ce l'hai, sei stato... Ozzo, sembra davvero, non sapremo mai i pensieri. Ce l'hai, sei stato il primo a dare l'assenso affinché mi occupassi dell'affresco. Beh, sei il membro più giovane del consiglio, gli altri hanno molta più esperienza di vita. Forse è meglio così, tanto tutto il tuo tempo lo sprechi che... Vabbè, dai, ma... Cioè, dai, boh, ne esageriamo tutta sta cattiveria, dai. È stato il primo a dare il consenso. Solo dopo che l'aveva fatto tuo padre? Ancora mi sento in colpa, avrei dovuto prendere subito le tue difese. Essere più giovane del consiglio si è rivelato più difficile di quanto pensassi. So che Baltas e Werner non mi ritengono capace e persino Paul dice che sono troppo avventato. Mio padre è morto, cercando di cambiare le cose in questa città. Sono solo cercando di portare avanti la sua eredità, ma sembra che gli altri non contemplino nessun cambiamento. Non demordere, Ozzo, loro sono fermi a passato, ma noi guardiamo al futuro di Tessing. Parli come mio padre, ha sempre detto che il consiglio aveva paura di intraprendere qualsiasi azioni importante. Temo che non cambierà un bel nulla in questa città, se non in peggio. No, vediamo verso il futuro. Grazie, Max. Magdalene. Ci vorrà del tempo, ma forse prima o poi mi ascolteranno. Vabbè, torna ai miei doveri, è meglio. Ci vediamo, Max. Ecco i Bauer. I Bauer, i Bauer. Brigitta. Cresciuta, Brigitta. Magdalene, come stai? Sono ansiosa di continuare a lavorare sull'affresco, così tanto da fare prima di Natale. Questo. Sono certa che sarà l'orgoglio di Tessing. Quando l'avrai completato? Hai sempre avuto il talento artistico di tua madre. E come sta tuo padre? Sei una delle poche persone che mi ha chiesto come sto io prima di chiedere ai mio padre. Il suo senno sta svanendo, prego per lui ogni sera. Questo. Così faccio anch'io? Dio sa cosa rappresenta tuo padre per questa città e cosa rappresenti tu. In un certo senso, dopo la rivolta, sei diventata la figlia di tutti. Mi sento più come una spina nel fianco di tutti ora che sto dipingendo l'affresco. Ha un pensiero molto gentile, vorrei che il consiglio la vedesse allo stesso modo, questo. Oh, non lo fanno con cattiveria. Ti vogliono bene, Magda, ma si preoccupano di compiacere il nostro attuale signore? Non è giusto nei tuoi confronti, ma così vanno le cose. Spero che il dottor Stoltz stia prendendo sul serio le sue responsabilità nei confronti della tua famiglia. Ricordo quando mio padre morì. Ci siamo presi cura di lui al meglio delle nostre possibilità, ma quei pochi mesi prima che si spegnesse sono stati difficili per tutti. Ma credo che Dio salverà tuo padre, qualunque cosa dica il dottore, abbiamo bisogno di lui. Dio voglia che tu abbia ragione, mi rimetto alla sua misericordia. Non so cosa farei se morissi, mi sembra di impazzire anche solo a pensarci. Beh, questa è più onesta come risposta. Se dovesse accadere il peggio non sarei sola, Magdalene, credimi. Potresti avere questa impressione, ma... Hai pensato a cosa farai se tuo padre non ce la facesse? Dovrò spostarmi, ricordi cosa è successo a Ottilia? Ma che vuol dire sto coso? Papà vorrebbe che portassi avanti la tipografia. Non lo so proprio, non riesco a pensare al futuro. Vabbè, la tipografia. Che spettacolo sarebbe? Sei sicura di potercela fare? È dura da sola? Ma tu sei una brava ragazza, Magda. Tante famiglie di Tessing sarebbero felici di accoglierti. Hai qualcuno in mente, vero? Non riesco proprio a immaginare a chi tu stia alludendo. Ti giuro di no, starei pensando a Oz. Non c'è un solo ragazzo decente in questa città? Nemmeno il giovane Oz? È sveglio quasi quanto suo padre, pace all'anima di Otto? Ah, mi manca. Oz non sa cosa vuole. Certi giorni mi meraviglio che riesca ad abbottonarsi quando non è da sola. Vorrei averlo conosciuto. Conosciuto davvero, intendo. Ha lasciato un'impronta, questo è certo. O le ragazze qui in città non erano così ingenue da correre dietro, anche se alcuni di noi non si fecero problemi. Era promesso a Eva fin dall'inizio. Così come Oz sembra essere tuo. Ma se niente si concretizzasse, sappi che sarei sempre la benvenuta nella mia famiglia, Magda. Kraft è un bravo ragazzo laborioso, ha una mente acuta ed è in grado di mantenere una famiglia. Non sono sicura che staremmo bene insieme. Non tutti i matrimoni inizialmente poggiano su basi solide, ma se preghi ti impegni i confidi nel Signore e col tempo le cose si aggiusteranno. Credimi. E se non funzionassi, come puoi essere sicura che due persone siano fatte l'una per l'altra? Non mi stai rendendo la prospettiva molto alettante. Forse non mi sposerò mai, tiè. Senza marito né figli, chi si prenderà cura di te quando sarai vecchia? Il Signore ci ha creati dalla costola di Ediamo perché voleva che fossimo parte degli uomini. Ti sentiresti sola senza conoscere mai quel senso di pienezza che viene dall'avere uno scopo. Ah, lo scopo è soltanto se c'è un uomo, capito? È certo. Non è la vita che fa per te. Non mi importa la mia vita, voglio solo occuparmi di mio padre, tiè. E finire questo dannato affresco. Naturalmente non devi decidere nulla adesso. Sei vicino a tuo padre per tutto il tempo che gli rimane. Il Signore è paziente. Comunque dove tornerà le mie faccende? Ricorda quello che ti ho detto, qualunque cosa accada sarei sempre la benvenuta in casa mia. Prima che mi dimentichi avevo qualcosa di chiederti su un vecchio libro. Eh no, aspetta, tutte queste chiacchiere. Si suppone che Martin l'abbia rubato a quel barone che è stato ucciso anni fa. Sai che fine ha fatto? Ah, spero di non mettermi nei guai, ma ce l'ho ancora, nascosto in un cassetto, grande. Martin l'ha lasciato qui quando è scappato. Ah, quindi se è data. Si è preso la prima briga di rubarlo, ma l'ha portato con sé perché non era più Martin. Perché l'hai tenuto? Cosa dovevo fare? Il barone fu ucciso poco dopo e io mi sono ritrovata in casa e il suo libro rubato. Non volevo che Martin si mettesse nei guai ancora più di quanto già non fosse. Non l'ho mai letto però, non so leggere bene. Potrei averlo? Non lo so. Ho bisogno di consultarlo per l'affresco, perché dumenti? Ma non si chiederanno tutti da dove hai preso le idee? Ho parlato con tanta gente in tutta la città, penseranno che io abbia preso le idee da loro. E va bene. Vorrei non averci più nulla a che fare e essere sincera, mi ricordo a tempi difficili. Un libro rubato a un nobile morto in casa nostra? Forse ci ha mandato a male il latte e girato le uova per tutti questi anni. Ecco qua, ti prego, non dire a nessuno che ce l'avevo io. Ah, l'istoria tassie. Ah, in latino, eh, ma lei è poliglotta. Riesco a capire alcune parole ed espressioni, dare un'occhiata più approfondita stasera. Grazie, Brigitte, ma mi sei stata di grande aiuto? Certo, Magda. Stammi bene, che Dio ti benedica. Anche tu, Brigitte, a presto. Interessanti ritrovamenti, molto interessanti. Grande, Brigitte. E vedi che Martin c'è, ma questo è l'altro. Buongiorno, Magdalene, come sta Klaus? Resiste, anche quando le parole gli escono a fatica il suo quale resta pieno di vita. Non so come farei a vivere senza di lui. Klaus è un bravo uomo, Magdalene. Tassing è un posto migliore grazie a lui. E uno dei pochi a Tassing è non avermi assillato per tutto questo tempo. Cosa intendi? Non fingere in aver sentito. Gli abitanti della città mi sparano addosso a merda da anni. Che male c'è di se di tanto in tanto mi azzuffavo con qualcuno. Sono un uomo onesto. Non ero coinvolto in quello che è successo a Otto Zimmerman. Sostenevo la sua causa. Ho fatto la mia parte qui. Ho arato la terra, salato le carni e mantenuto Brigitte e Kraft. Mi sono spaccato la schiena abbastanza per questa famiglia. Un uomo non può avere un po' di maledetto riposo una volta tanto? Comunque, perché finisci sempre per fare botte? Brigitte ti aiuta in tutto questo, no? Ti credo, Martin? Eh, come vuoi dire, non è che sei gratta. È il dovere di una moglie. Prendi nota, Magdalene. Andiamo d'accordo, anche se spesso passa più tempo con Veronica che con me. Sono buone amiche fin dall'infanzia, no? Abbiamo tutti bisogno di un'amica fidata. Io, ad esempio, ho la fortuna di avere Esther. Sì, buone amiche. Ah, lui lo sa. Vabbè. Vabbè, ho perso già abbastanza tempo. È ora che tu vada. È più tardi, Martin. Quindi lo sa. Non è così stupido. Pensavo fosse un po' più stupido. Vabbè, io direi, ragazzi, andiamo alla abbazia e poi ci salutiamo. Pascoli. C'è anche il lercio. Ah, vedi, c'è pure la locanda ancora. Però voglio andare un attimo all'abbazia. Foresteria chiusa. Abbazia superiore. Marta. Va bene, va bene. Quindi, mi raccomando, ragazzi... Vabbè, vedi, tutto bruciato. Ah, non si può entrare, infatti. Ma è proprio abbandonata. Che peccato. Che peccato. Va bene, ragazzi. Come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima. Ciao, ciao.